Con Culateo Belnichi, siamo ancora a tre ore alla fine della gara Cosa pensi del risultato finale? Non è quello che ci aspettavamo, perché avevamo più esperimenti Ma infortunatamente è così per la nostra gara Siamo un po' un po' un po' un po' in qualificazione Ma stiamo facendo il nostro meglio Quindi speriamo che ci saranno circa 24-26 Come ho detto, non è quello che ci aspettavamo Ma stiamo facendo il nostro meglio Percettivo quello di arrivare chissà dove Si sono divertiti qualifica non è andata proprio benissimo Che cosa ti piace diitorsciare la gara? Ci facciamo accettare qui Ci siamo prassi di 15 volte per la parola La pista Azuray è un bvida di marchio La parola ha giusto Il regno è bello qui Perciò c'è l'Italia Ma è il semplice 5 volte in a row!